Allora lei mi dovrebbe domandare in primo luogo una valutazione sul risultato perché vedo che dalle domande che voi mi fate questo elemento viene dimenticato ma chiedo scusa se lo ricordo perché è stato l'elemento al di là della lettera fra noi e il Presidente della Repubblica, al di là di quello che succederà domani è l'elemento che ha dominato l'oggi e su questo se mi permette vorrei dare una valutazione.